Presentiamo ora il software di Tecnobit modulo Solaio per il calcolo, il dimensionamento e la verifica di solai in calcestruzzo armato. Cliccando sull'apposito pulsante compare una prima maschera con la quale è possibile innanzitutto richiamare lavori già memorizzati oppure è possibile definire un nuovo lavoro. Prima di definire un nuovo lavoro è possibile inserire delle tabelle di armature tipo, tabelle delle barre di acciaio che rimarranno memorizzate e a disposizione del progettista. Tali tabelle sono completamente editabili in tutti i loro campi. E' possibile definire delle tabelle di armatura per solai di latero cemento, per solai a lastre predal e per solai di tipo a pannello. E' anche possibile definire i ferri correnti superiori. Allo stesso modo, cliccando sul pulsante computometrico, è possibile anche definire i prezzi degli elementi che costituiscono il nostro solaio. Ad esempio, i prezzi dei blocchi di laterizio, a seconda della loro altezza, delle reti di armatura, delle barre di acciaio, delle lastre base per solai di tipo predal, dei blocchi di polistirolo, sempre per solai predal, oppure i costi dei tralicci per solai in latero cemento e per solai di tipo predal. Per iniziare un nuovo lavoro, occorre innanzitutto definire il numero di campate che costituiscono il nostro solaio. E' possibile definire fino a 12 campate, più una mensola all'estremità sinistra ed una mensola all'estremità destra. Nel nostro esempio, realizzeremo un solaio a due campate con una mensola all'estremità destra. Compara immediatamente lo schema del nostro solaio. Dobbiamo innanzitutto definire le luci delle varie campate, espresse in centimetri, ad esempio 5 metri, 6 metri e mezzo ed un metro e mezzo per la mensola. Definiamo ora la larghezza dei vari appoggi. A questo punto è possibile inserire i carichi uniformemente distribuiti. Tali carichi sono da intendersi come carichi caratteristici. Di tipo G1, quindi permanenti strutturali, di tipo G2, permanenti non strutturali, di tipo Q, carichi variabili. Secondo le NTC 2008, quando i carichi di tipo non strutturale sono compiutamente definiti, possono anche essere inseriti nei carichi di tipo G1. Ad esempio, inseriamo un valore di 300 dkN al metro quadro, che terrà in conto del peso di pavimenti, massetti di sottofondo, intonaci e tre mezze. Inseriamo i carichi variabili per un'abitazione civile. Ed ora, dobbiamo selezionare la tipologia di solaio che andremo a calcolare. Con il menu a tendina, tipo solaio, possiamo innanzitutto selezionare un solaio di latero cemento. A un traliccio, un travetto, oppure a due travetti accostati, Ancora, possiamo selezionare un solaio di tipo lastra predal, a due blocchi o a quattro blocchi. Ed infine, un solaio di tipo a pannelli preconfezionati, a due o a tre pignatte. Nel nostro esempio, inseriremo un solaio di tipo latero cemento da gettare in opera. Andiamo a definire la geometria della sezione del solaio. Indichiamo lo spessore dei blocchi, lo spessore della cappa di calcestruzzo collaborante, l'interasse e la larghezza del travetto. Ancora, indichiamo le barre di acciaio presenti nel traliccio, ad esempio 2, fi, 6, e della rete superiore, ad esempio, la rete del fi 6 con maglia 20x20 cm. Cliccando sul pulsante Conferma sezioni costanti, indichiamo al software che il nostro solaio sarà realizzato con questa sezione per tutte le campate. Automaticamente, il programma calcola il peso proprio al metro quadrato lineare del nostro solaio. Definito lo schema geometrico e di carichi, è possibile inserire dei vincoli di estremità. Vincoli all'estremità sinistra o destra, intesi come momenti negativi, oppure come percentuali rispetto all'incastro. Per esempio, se definiamo un valore pari a 0,5 definiremo un incastro parziale del 50%, cioè un semi-incastro. Un valore invece pari a 0 indica al programma la presenza di un semplice appoggio o cerniera. Oltre a di carichi uniformemente distribuiti, è possibile con il pulsante carichi incampata andare ad inserire dei carichi parzialmente distribuiti di tipo rettangolare, trapezoidale e triangolare oppure inserire dei carichi di tipo concentrato. Facendo scorrere con il mouse il cursore possiamo definire l'esatta posizione del carico concentrato rispetto all'appoggio di sinistra oppure all'appoggio di destra. Inseriamo ora i carichi di tipo concentrato G1 e Q. Abbiamo inserito un carico concentrato incampata. Nel nostro caso, nel nostro esempio, cancelleremo tale carico. Grazie.